è importante dichiarare lo svolgimento di un colloquio e anche prendere nota di quello che si è riferito al genitore al tutore per fare questo individuare il colloquio e cliccare sull'icona gialla scorrere la pagina mettere la spunta su colloquio avvenuto nel caso il colloquio si sia svolto riportare brevemente ciò che si è detto riportare l'esito del colloquio inserito quanto necessario clicchiamo su salva quanto viene scritto sul testo del colloquio ed esito del colloquio non viene visualizzato dal tutore